Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, è stata ricoverata all'ospedale Sembra che il ricovero risalga lo scorso 12 settembre, ma la notizia è emersa soltanto ieri Poche le informazioni sulle sue condizioni di salute.Ormai i due fanno sul serio, la frequentazione va avanti da mesi e sembra che il rapporto vada a gonfie belle L'ex calciatore ha finalmente parlato della sua separazione da Ilari e ha raccontato cose che nessuno si sarebbe mai aspettato In un'intervista esclusiva al Corriere della Sera, Francesco Totti ha raccontato della crisi che ha vissuto con Ilari Blasi e che li ha portati infine alla separazione Le sue parole raccontano di un tradimento da parte di lei che lo avrebbe gettato nella disperazione La crisi sarebbe iniziata durante l'ultimo anno da calciatore, quando Ilari non sarebbe riuscita a dargli il giusto supporto per affrontare l'addio L'ex calciatore ha trovato messaggi e foto che inchiodavano Ilari, scoprendo così di essere stato tradito Totti ha provato a sistemare le cose, ma purtroppo la crisi era già in una fase avanzata per Ilari e alla fine non c'è stato nulla da fare Si parla poi di un accordo tra i due, che prevedeva di poter frequentare altre persone senza però farsi scoprire dai media Una situazione che, è chiaro, non sarebbe potuta durare molto a lungo Così lo scorso 11 luglio c'è stato l'annuncio ufficiale della separazione, e Totti ha potuto vivere la sua nuova relazione senza più nascondersi È stata Noemi Bocchi ad aiutarlo in un periodo difficile che durava da molto tempo, i due sono molto legati Noemi Bocchi ricoverata, ecco cosa è successo.l'ultima notizia riguarda proprio la nuova fidanzata di Totti, ma non ha nulla a che vedere con la questione della separazione, Noemi Bocchi è stata ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma Il motivo, come si legge su diverse testate, è un'infezione da Covid-19 Non ci sono dettagli sulle sue attuali condizioni né sulla gravità di ciò che le è accaduto Sicuramente si tratta di qualcosa che ha bisogno di qualche approfondimento, visto il ricovero Totti si trova in zona ed è chiaramente in apprensione per la sua compagna Nel frattempo Ilari, che ha letto dell'intervista al Corriere della Sera, ha risposto piccata che ognuno pagherà le proprie azioni, parole e comportamenti Che cosa significa questa minaccia? Lasciogherla ha intenzione di rispondere al fuoco e iniziare una guerra? Di sicuro è un'uscita poco felice, vista anche la situazione in cui si trova la nuova coppia Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video